Il Consiglio regionale nella seduta di ieri ha approvato a maggioranza dei presenti la proposta di legge ed iniziativa della Giunta concernente l'adeguamento IRPEF. La norma prevede il recepimento delle disposizioni normative nazionali riguardanti i nuovi scaioni di reddito per l'applicazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche. La nuova disciplina regionale a partire dal 1 gennaio 2022 stabilisce la seguente articolazione degli scaioni di reddito per l'applicazione dell'IRPEF. Per i redditi sino a 15.000 euro 1,73%, per i redditi oltre 15.000 euro e sino a 28.000 euro 1,93%, per i redditi oltre 28.000 euro e sino a 50.000 euro 2,13%, per i redditi oltre 50.000 euro 2,33%. di Superlega, di vedere il calcio. Va bene, va bene, va bene, vai a lezione.